Buonasera a tutti, siamo negli uffici del Salone del Mobile, dovevamo affrontare una tematica che è la tematica a tutti nota e molto dibattuta, il Salone lo si sarebbe dovuto aprire il 21 aprile, abbiamo deciso di rinviarlo di un paio di mesi, quindi c'è una data di nuova apertura, è il 16 giugno, io sto chiedendo agli amici del settore dell'arredamento e del Salone del Mobile uno sforzo perché in questo momento Milano non può fermarsi, dobbiamo oggettivamente lavorare affinché questo virus non si diffonda, ma non si deve nemmeno diffondere il virus della sfiducia, Milano deve andare avanti, quindi io li ringrazio per questa prova di fiducia perché non è facile oggi avere la volontà di chiamare da tutto il mondo visitatori, di convincere gli operatori, ma credo che questa sia la decisione giusta, però è importante che come sempre mi piace dire, ognuno faccia la sua parte, quindi chiedo al Governo di intervenire e di dare una mano per un settore fondamentale per la nostra economia, faccio un appello particolare agli albergatori, ecco quest'anno dobbiamo avere molta attenzione nel determinare i prezzi delle Camere perché sarà un anno straordinario, però grazie e Milano sarà al vostro fianco, per cui un salone particolare, un salone in un altro mese, ma buon salone a tutti!